Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro, in questo video ti presenteremo le caratteristiche principali del prodotto. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Il Raserba Mulching Marina Systems Grinder 4x4 SKW rappresenta una soluzione per la manutenzione del prato, progettato per chi cerca prestazioni elevate e un risultato impeccabile. Questo modello è dotato di un motore Kawasaki FJ 180 V da 4,5 CV e 179 cm³, che assicura una potenza costante e affidabile. Le quattro ruote in metallo zincato da 235 mm offrono una manovrabilità ottimale su terreni irregolari. La doppia lama Grinder è stata progettata per ottenere un effetto mulching ottimale, così da migliorare la salute del prato senza l'uso di prodotti chimici. La trazione, con la possibilità di scegliere tra due e quattro ruote motrici, consente al Grinder 4x4 SKW di affrontare terreni impervi e pendenze significative con facilità. Inoltre, la regolazione centralizzata dell'altezza di taglio da 20 a 70 mm permette di adattare il Raserba Mulching. Visita il sito AgriEuro e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più. Grazie a tutti.